C'erano anche i lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure alla presentazione dei nuovi servizi al lavoro attivati nelle sedi di Tortona e di Serra Valle Scrivia dell'Istituto Santa Chiara, espressione formativa della diocesi tortonese, accreditata dallo scorso marzo dalla Regione Piemonte proprio per supportare e facilitare le politiche attive e occupazionali, individuando opportunità di finanziamento pubblico a vantaggio sia delle imprese che degli utenti. Ed è stata la guest lounge dell'outlet di Serra Valle ad ospitare la presentazione di un percorso che ha lo scopo di ridare speranza a chi cerca lavoro e al tempo stesso pure a chi lo offre, ma non riesce a trovare il dipendente giusto o ha bisogno di essere indirizzato attraverso una serie di strumenti mirati ed efficaci. Informazione, accoglienza, orientamento, consulenza e accompagnamento al lavoro supporteranno l'utente in questa ricerca. Da inizio anno, fra l'altro, le sedi piemontesi del Santa Chiara operano come aderenti al progetto Job Club, un'iniziativa per il supporto alla ricerca attiva del lavoro che consente di affrontare i temi della disoccupazione in modo innovativo e con un consistente ritorno sociale. Sì, perché come ha affermato il Vescovo di Tortona, Vittorio Viola, è importante la dimensione oggettiva del lavoro, intesa in termini di attività, di risorse, di strumenti, ma è altrettanto fondamentale la dimensione sociale e il creare relazioni, ridando dignità del lavoro a chi la persa e a chi la cerca, mettendo la persona al centro. Anche ad Alessandria ha fatto tappa, restando in tema occupazionale, il ciclo di incontri formativi dedicati al lavoro sotto il profilo del sostegno alla disabilità. L'incontro, promosso dalla Regione Piemonte, ha avuto lo scopo di diffondere su tutto il territorio la conoscenza delle opportunità offerte dalle convenzioni ex articolo 14 del Decreto Legislativo 276-2003, che consente alle aziende di effettuare una parte delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge, affidando una o più commesse a cooperative sociali o consorsi di cooperative, che per svolgere il servizio esternalizzato assumono lavoratori disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. È stato chiarito quali soggetti possono essere coinvolti e come si attivano le convenzioni, cui fa seguito l'illustrazione del ruolo dei centri per l'impiego, coordinati dall'Agenzia Piemonte Lavoro e l'intervento delle parti sociali. Nasce il tavolo provinciale del volontariato ad Alessandria, unisce i rappresentanti delle consulte comunali, quelli della Regione Piemonte, della provincia alessandrina e del Centro Servizi Volontariato di Alessandria Asti, oltre ai referenti del Consiglio regionale di quest'ambito. Scopo di quest'organo di comunicazione è favorire la Costituzione sul territorio di spazi e momenti di partecipazione, fondati sul valore del dono gratuito del proprio tempo, per una determinata attività solidaristica. Il tavolo si propone anche di promuovere un principio di responsabilizzazione del mondo del volontariato e di ogni singolo volontario.